Ma naturalmente questo è il dramma che ci riguarda più da vicino, che ci tocca più dolorosamente. Per questo il governo Berlusconi nel 2004 decise di istituire il giorno del ricordo, il 10 febbraio, come doveroso omaggio alle vittime e come monito perché simili drammi non si ripetano. Ricordare è un dovere morale, civile, politico, ma non significa in alcun modo riaprire antichi conflitti, come ci ricordano sempre, anche stamane, i familiari delle vittime. I responsabili di quelle stragi sono persone fisiche da tempo scomparse, inquadrate nell'ambito di una forza armata, espressione di uno Stato oggi dissolto, l'esercito popolare di liberazione iugoslava, guidato dal maresciallo Tito, ed erano ispirate da una ideologia, il comunismo, sconfitta dalla storia. Gli Stati che hanno preso il posto dell'ex Jugoslavia non hanno alcuna responsabilità delle violenze di allora. Sono nazioni amiche e alleate, a partire dalla Croazia e dalla Slovenia, che condividono le nostre scelte di civiltà, il nostro sistema democratico, appartengono all'Unione Europea e all'Alleanza Atlantica. E proprio la lezione della storia ci dimostra l'importanza della riunificazione dei Balcani occidentali e dell'Unione Europea. L'adesione di questi Paesi rappresenta infatti una priorità del Governo italiano. Ricordare quella stagione di conflitti attraverso materiali, oggi a disposizione di tutti, ci consente di avvertire ancora meglio il grande valore della pace, della convivenza proficua e cordiale fra i popoli diversi, ma uniti da una comune identità europea.